Il libro di TV è l'imam della grande moschia di Roma, l'imam H. È ovviamente una cosa eccezionale che abbiamo incontrato e gli chiediamo, visto che insomma abbiamo attenzione per i diritti umani e per tutte queste tematiche a livello mondiale, cosa pensa a lui di quello che sta accadendo in Iran in questo momento? Grazie Gianni e grazie anche di questa occasione sicuramente i momenti di incontri e di dialogo sono momenti molto importanti e noi cerchiamo sempre di trasmettere cultura nei momenti di pace ma qualche volta i momenti di tensione ci obbligano ad interrogarci verso certe situazioni, e con una certa riflessione su certe situazioni. Certamente il nostro mondo ha bisogno di pace, non ha bisogno di guerra, non ha bisogno di compilettualità, ha bisogno di trovare un'armonia, un'armonia sociale, una moda di far crescere le comunità, le nostre società sono oggi complesse, sappiamo che le nostre società sono società delle molti, sono molti netti, molti culturali, molti linguistiche, molti professionali, quindi questa è l'ottica di una società del futuro, la società non può essere ogni giorno una società monolitica e improntata ad una sola cultura, una sola religione, ma è una società condivisa, condivisi i valori, per questo la società del futuro è una società che porta avanti un modello di crescita, specialmente nel dialogo tra tutti i componenti che costituiscono ogni società. Iran è un paese molto importante per l'area in quale si trova sicuramente il Golfo, il Golfo Arabo, il Golfo Persico, un Golfo molto importante e la pace in questo spazio è importante per tutti e certamente la situazione attuale non favorisce molto questa crescita di pace, per questo un appello che noi ci rivolgiamo a tutti gli attori di lavorare insieme per un minore tensione, lavorare insieme per una minore violenza, per un minore conflittualità, per una crescita dell'amore, crescita della fraternità, cercare di sentire le popolazioni, non lasciare di essere isolati nel pensiero popolare perché il popolo oggi giorno è molto formato. Sappiamo che le nostre società oggi arrivano le informazioni davvero tutto, quindi non può essere soltanto un monopolio delle informazioni che arrivano, le informazioni arrivano tramite i social e si trasmettono a tutti, quindi le popolazioni oggi giorno sono molto informate, mi sanno dei diversi modelli e non può essere oggigiorno un modello che raggia il futuro se non un modello libero. La libertà è molto importante nella vostra società, quindi non abbiate paura a dare libertà ai popoli e alla popolazione perché il popolo non può essere sempre sottomesso sotto una certa autorità, qualsiasi sia autorità di pensiero, autorità di ideologia politica, autorità anche di ideologia o anche religiosa. Quindi le nostre società sono oggi giorno, quando sono il 37, da sentirsi libere, da sentirsi anche autonome e non essere forzate, ma dall'altra parte vogliamo che le nostre società sono società ben organizzate, quindi non vogliamo delle società che vengono coprite in società dove non c'è un sistema, vogliamo sì un sistema ma che non un sistema libero, che dà la libertà a tutti. La questione che è al quale è nata la popolazione italiana e l'ha abbiata il velo. Il velo islamico ricordiamo che è un velo mariano, un velo non è una copertura, ecco, integrale della donna perché la donna fa parte della nostra società nazi e la metà della nostra società è dire di più che tutta la nostra società. Perché la donna essenzialmente nella sua qualità di madre, vuol dire di generatrice di vita, ecco, che riesce a dare speranza al mondo con, ecco, con tutti abbiamo fatto l'esperienza di passare dal segreto di una donna. Quindi, attenzione alle nostre donne, a chi porta violenza contro le donne porta violenza contro tutta l'umanità e che cercare di sottomettere una donna sta mettendo sottomettere la misericordia di Dio, perché ricordiamo nell'Islam Dio chiamato nel Raim e il suo nome nel Raim, il misericordioso deriva dal nutro della donna, del Raim, a dire, proprio da quel contenitore al quale tutti abbiamo ricevuto il primo momento di accoglienza. Quindi, fare violenza contro la donna, fare violenza contro la misericordia di Dio, perché la donna è la misericordia di Dio nella nostra società. Il mio appello a questo, di sentire il popolo, se il popolo chiede l'edificità bisogna dire la loro vita. E penso che oggi giorno la società iraniana è una società che è capace di trovare tramite i giovani un nuovo futuro, per un futuro prospero non soltanto dell'Iran, ma in tutta la zona del Polfo, in una armonia completa, che io provo a trattare la pace nel futuro. Sentivamo l'ultima domanda, lei ovviamente è un'autorità spirituale, ma era anche a capo di una comunità, una comunità di persone islamiche che stanno qui, che erano a Roma, e adesso sicuramente sono tante che non potrebbero conoscere ciascuna, però lei percepisce che c'è all'interno di questa comunità un qualche dibattito, una percezione di ciò che sta accadendo in questo luogo del mondo della Grande Persia in questo momento. C'è un dibattito magari anche con delle posizioni contrastanti? Il mondo muslimano non è un mondo monolitico, ci sono diverse correnti, diverse spiritualità, diverse culture, certamente il musulmano dell'Afghanistan è diverso dal musulmano dell'Africa o del Morocco o dell'Indonesia, sono diverse culture peculiari di quella zona. E di quanto fino a ora quando si ricordano un certo, una certa situazione in un paese fa rispettare anche tutti gli altri perché sta accadendo e perché è tutta questa violenza? Cioè, sicuramente sono interrogazioni forti, interrogazioni anche con i modelli culturali dell'Islam peculiari che è una scelta libera della donna muslimana, non è un obbligo a tutti. Quindi, se diventa un obbligo, le persone si sentono frustrati. Il Islam è la regione della libertà, io guardo il cuore della persona. Il vino deve essere portato con gioia, non per forza sforzatura. Quindi, riflettiamo qualsiasi violenza fatta in nome dell'Islam, è una versione integrale che è un generalista per proporre un certo pensiero. Penso che tramite la libertà si può raggiungere anche un diritto equa dell'Islam. Le comunità musulmane qua a Roma sono moltissime perché vengono da tutti i paesi, sono musulmani del mondo, così che ormai sappiamo che Roma raccoglie tutto, penso è una declarazione unita con Roma e Roma. E sicuramente le comunità si interrugano a quello che sta succedendo. Una cosa importante da dire, non vogliamo più violenza. Il nostro mondo è già carico di violenza. Tanto con cuori, carico di guerre, vogliamo pace. E questa pace la vogliamo per tutti. Non vogliamo soltanto per un gruppo, ma lo vogliamo per tutti. E dobbiamo essere tutti. Iniziamo uno all'altro per creare questa pace. Quindi siamo con il popolo iraniano, con le sue richieste, le vittime. E non vogliamo imporre niente dall'esterno, ma vogliamo che sia raggiunta questa pace tramite il dialogo e tramite le persone per dire mai più violenza. Perché siamo tutti fratelli di sorelle, siamo tutti il suo padre di una stessa umanità. Abbiamo fermato con la sua sentita, la vostra incesca, la sua avvenenza tramite un documento sulla fratellanza come la pace mondiale. Quindi lavoriamo per costruire la pace mondiale. Grazie, grazie. Ricordiamo di mamma Cadda e di mamma della grande moschia di Roma. Bellissima moschia. Ricordiamo di visitarla anche a chi vuole e riceviamo le visite perché oltre ad essere un luogo di posto, manca un luogo di fattura. Sia a secondi del contesto.